Il principe William sarebbe stato così malato di preoccupazione prima dell'intervista bomba di Meghan e Ferry, con la presentatrice statunitense Oprah Winfrey, che non stava mangiando e si è tagliato fuori dal mondo. Si diceva che il principe di Galles fosse così ansioso alla prospettiva dell'intervista rivelatrice, trasmessa dalla CBS, che ne fu distrutto. Mail on Sunday L Editor at Large Charlotte Griffiths ha detto a Dan Watton per GB News. L'ho sentito da molto tempo ormai da molte fonti diverse. Nel periodo precedente a quell'intervista di Oprah, William, era letteralmente malato di preoccupazione. Non stava mangiando. Ed è diventato non solitario, ma sicuramente si stava nascondendo. È andato in una residenza reale per un periodo di tempo per isolarsi dal mondo. Era solo a pezzi, fondamentalmente. Nonostante la reputazione timida di Kate, ha detto la signora Griffiths, non aveva intenzione di lasciare che il futuro re venisse inghiottito dalla frenesia generata dall'intervista. Ha detto, quello che Kate stava facendo era stare accanto al suo uomo. Kate era tipo, devo difendere questo ragazzo e proteggerlo. È stato distrutto da questo, e questo probabilmente l'ha resa piuttosto d'acciaio. anche se ha questa reputazione di essere timida. Ma quando si tratta di proteggere suo marito, lei interverrà e lo proteggerà.